Un percorso di fascino, di storia, di arte, che ci riporta al passato ma guarda al futuro. E' quello che offre ai visitatori la mostra dell'artigianato artistico a Guardia Grele, in corso fino al 22 agosto. Tra le novità, l'omaggio a D'Annunzio. Infatti, il concorso nazionale di arte orafa Nicola da Guardia Grele è dedicato a Gabriele D'Annunzio, disegnatore di gioielli per le sue muse. Inoltre, grande spazio ai laboratori per i giovani. Al taglio del nastro, insieme al presidente Gianfranco Marsibilio, anche l'assessore regionale alle attività produttive Daniele Damario ed il sindaco Donatello Di Prinzio. Alla cerimonia hanno partecipato anche il vicepresidente della Fondazione Banco di Napoli, Vincenzo Di Baldassarre, i rappresentanti della Camera di Commercio e delle associazioni CNA e Casa Artigiani. Gianfranco Marsibilio, presidente dell'ente mostra dell'artigianato artistico abruzzese, al via la 51esima edizione. Ma possiamo dire che questa è un'edizione anche di qualche sogno realizzato o che si sta per realizzare? Sicuramente sì, perché avere la disponibilità dell'assessore Daniele Damario questa sera mi riempie di gioia e di orgoglio al tempo stesso. Perché da anni parlo di marchio di qualità dell'orificeria, di riconoscere l'artigianato come patrimonio dell'UNESCO. L'assessore questa sera ha detto chiaramente che devo tirare fuori tutti questi sogni e ha dato piena disponibilità alla realizzazione di questi sogni. Al tempo stesso il comune di Guardia Grele vuole che Guardia Grele diventi, che questo palazzo diventi sede di un ITS per l'artigianato e ha dato la disponibilità anche a questa cosa. Quindi sicuramente ci sono motivi veri di soddisfazione con la speranza che questi sogni si avverrino al più presto. Donatello Di Prinzio ha appena fatto il taglio del nastro insieme al presidente dell'ente mostra, insieme all'assessore regionale. La prima inaugurazione della mostra d'artigianato da sindaco. Oggi con questo primo anno c'è stata anche un'ottima collaborazione iniziale anche per attività extra mostra d'artigianato. Quest'anno Gianfranco ha avuto l'idea di unire anche i gioielli dell'epoca d'Annunziana e ringrazio anche gli amministratori di Cadoneghe che hanno portato alcune opere e comunque diciamo anche gioielli che sta presso il Museo del Volo di San Pelaggio e con loro stiamo pensando di fare anche un rapporto di gemellaggio per unire le due città. È un 51esima edizione molto ambitioso dopo il lockdown e l'edizione della ripresa. Quindi io mi auro che insieme alla Regione Abruzzo che ci è sempre vicino possa continuare questa attività per andare oltre i confini nazionali e portare la città di Guardia Grele oltre i confini nazionali.